Oggi vi parlo del rapporto madre figlia adolescente. Cosa fare per migliorare la relazione? Ecco sette punti da mettere in pratica. Numero 1 comunicazione aperta e sincera. Parlate apertamente dei vostri sentimenti, delle vostre preoccupazioni e delle vostre aspettative. Ascoltate attentamente l'una e l'altra senza giudicare. 2 rispetto reciproco. Rispettate le opinioni e i punti di vista dell'altra anche se non siete d'accordo su tutto. Evitate di gridare o insultare durante le discussioni. 3 passate del tempo insieme. Trovate delle attività che entrambe apprezzate e trascorrete del tempo di qualità insieme. Questo vi aiuterà a creare legami più forti e a costruire ricordi positivi. 4 stabilire limiti e regole chiare. È importante definire regole e limiti chiari all'interno della famiglia ma è altrettanto essenziale essere flessibili e aperti al dialogo. 5 mostrare apprezzamento e gratitudine. Esprimete gratitudine e apprezzamento per le piccole cose che l'altra persona fa per voi. Questo contribuirà a creare un clima positivo e amorevole. 6 essere empatiche. Cerca di metterti nei panni dell'altra persona e cerca di capire le sue emozioni e i suoi sentimenti. L'empatia è fondamentale per costruire un rapporto sano e duraturo. 7 chiedete aiuto ad un professionista quando necessario. Se il rapporto madre figlia adolescente sta attraversando un momento difficile non esitate a chiedere l'aiuto ad uno psicologo. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!